In riva al Lago di Como, a Como, per parlare col candidato sindaco per il centro-sinistra. A Como, Mario Lucini, come nasce la tua candidatura? Nasce dalla sollecitazione di tanti amici, tante persone che la scorsa estate hanno cominciato a spingermi, a prendere in considerazione queste ipotesi, sulla base dell'esperienza di questi anni di sofferenza all'opposizione e sulla base delle battaglie combattute, a volte con esiti positivi per la città, a volte purtroppo per la legge dei numeri che non hanno portato a un risultato diretto. E con quali speranze e quali idee per la Como di domani? Le speranze sono buone, sono legate al clima che si percepisce in città, che mi sembra molto favorevole, vedo persone attente e vogliose di intraprendere una nuova strada. Le idee sono quelle di, prima di tutto, recuperare un rapporto con la città, che è stata abbandonata a se stessa in questi anni, da un'amministrazione rinchiusa tra le proprie mura e incapace di ascoltare i singoli cittadini, ma anche le realtà produttive, le associazioni impegnate nel sociale. Questo è il primo elemento da recuperare per costruire qualcosa di buono insieme. Senza entrando ai dettagli del programma, però una priorità? Una priorità è per forza quella che abbiamo alle nostre spalle, che è quella di restituire il lungolago ai cittadini, ai comaschi prima di tutto e ai turisti che quando vengono ci chiedono ma dov'è il lago? E allora per riscoprire il lago a Como, per restituire la città ai cittadini, alle prossime amministrative 6-7 maggio, mi raccomando, Mario Lucini per il centro-sinistra per rilanciare questa città, perché ne ha bisogno o sbaglio? Ne ha bisogno, ne ha bisogno. Ne abbiamo bisogno tutti. Grazie.